Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Quello che mi accenga a fare qui davanti col tablet di mia moglie è di vedere la live della Wizard of the Coast che hanno fatto ieri in giornata dove andranno a parlare di tutte le novità che ci saranno di D&D penso fra questo anno e il prossimo, comunque per la maggior parte nel 2023, che hanno detto sarà, non l'ho ancora visto questo video, sarà l'anno, da quello che mi hanno comunicato, l'anno di D&D quinta edizione e sembra che hanno moltissime cose da mostrare, da farci vedere e apro una piccola parentesi, stiamo tornando anche recentemente a giocare a Dungeons & Dragons su Twitch tutti martedì e venerdì sera, trovate il canale in descrizione con link per connettersi e tutto perché stiamo iniziando una campagna in ambientazione Ravenloft, quindi ne vedete delle belle. Ora faccio partire direttamente il video e vediamo un po' cosa hanno rivelato. Fermo un attimo. Vedo che stanno parlando di Dungeons & Dragons e Magic, su Magic non ho interesse, per quanto riconosco e ammetto che è un bellissimo gioco di carte, quando ci ho giocato mi ci sono anche divertito, però è un gioco di carte collezionabili e a me i giochi di carte non piacciono particolarmente. Però sentiamo cosa dicono di Dungeons & Dragons, quinta edizione. cosa stanno parlando di Dungeons & Dragons? One D&D? One D&D? Cosa stanno mettendo? Dungeon Master, la guida. 50 anni di D&D. Bellino. Praticamente Salvatore si è rimesso a scrivere, o per meglio non ha mai smesso, l'autore e il padre di Dritz Dorden, dei più famosi romanzi scritti in abitazione Forgotten Reams che ricordo in Italia essere editi dall'Armeni Editore e stanno rifacendo tutte quante le copertine, ovviamente alcune sono veramente vecchie, quindi andrebbero anche rifatte, e dovrebbero essere attualmente 39 romanzi usciti, tantissimi, più tutti nuovi che verranno. Ed è la saga di Dritz, una delle mie preferite, anche perché una delle mie ambientazioni fantasy preferite insieme alla Terra di Mezzo sono i Forgotten Reams, e stanno parlando di tutti i nuovi romanzi che usciranno appunto dalla pena di Salvatore. Berlino, una guida, una guida Forgotten Reams dove praticamente ti spiega tutto, qualsiasi cosa, tutti i personaggi, tutti gli ambienti, molto utile questa. Ovviamente tutto quello che è ruota intorno a Dritz. Spelljammer. Ah, Spelljammer, avventure nello spazio. Hanno fatto una variante di D&D, ne avevo già sentito parlare di questo Spelljammer, avventure nello spazio, sembra una specie di... C'è Pathfinder, hanno fatto Starfinder, sembra una versione, questo Spelljammer, loro personale, dello spazio. Sci-Fi, che comunque è una cosa che D&D ha sempre fatto ambientazioni D&D di base, e non tutto quello che poi, tutti i manuali di espansione che sono usciti con altre ambientazioni, ha sempre fatto ambientazioni fantasy. Sarebbe anche l'ora che si buttassero un po' nello spazio, onestamente. È una campagna, ok. Un paio, sì. Un linee. Dragonlance? È uscito da dieci anni di D&D quinta edizione, hanno fatto Ravenloft abbastanza recentemente, Forgotten Realms, Eberron, Dragonlance? C'è la bellissima ambientazione, i romanzi di Margaret Ways e Tracy Hickman. Dov'è finita? Sentiamo un po'. Dai, dai, hai fatto uscire il manuale d'ambientazione, dai. Oh. Gioco da tavolo? Hanno fatto Dragonlance Warriors of Kreen, Il gioco da tavolo? Lo voglio. Allora, in conclusione, tutto quello che hanno fatto vedere sono il loro piano per il 2022 e il 2023 e hanno sforato anche dicendo del 2024. Quindi tutto quanto è il loro piano di fare, da quello che ho capito, questo 1D&D, che sarebbe un loro ecosistema compatto di tutto quello che riguarda le loro opere di Dungeons & Dragons, comprendenti, il gioco da tavolo. Si parla anche di una possibile app tipo D&D Beyond, però in 3D, qualcosa tipo, ovviamente un tabletop simulator o qualcosa del genere, e poi hanno fatto vedere tutti i nuovi manuali di espansione che usciranno e addirittura da quello che avevo letto su un sito hanno parlato anche di D&D 5.5, che a me è una cosa che mette un po' paura, perché io giocavo a Dungeons & Dragons terza edizione. Quando uscì la 3.5, sì, aveva rivisto le regole della 3.0, se no non c'era bisogno, però l'aveva anche espanse e l'aveva complicata ancora di più. Dungeons & Dragons, quinta edizione, è, dopo il D&D base, la più facile edizione mai creata, è molto più facile dell'Advanced, e secondo me io ho paura che con questa 5.5, oltre a rivedere tutti i contenuti, lo possano andare un po' a sannaturare. Perché? Poi ci farò un video a parte, dove vi dirò completamente cosa ne penso della quinta edizione, non è che è già uscita, come ripeto, da dieci anni, però la mia paura è che lo vadano a complicare, perché il manuale e il regolamento sono belli così, sono talmente semplici che l'altra sera ai miei giocatori al tavolo, con cui c'era anche mia moglie, l'ho spiegato tipo in dieci minuti, il regolamento. Quindi spero che con la 5.5 non lo vadano a complicare, chi se ne frega, se lo dovessero complicare io continuerò a giocare alla 5.0, il problema è che poi tutti i manuali nuovi che usciranno, usciranno per la 5.5. Non usciranno per la 5.0, però a parte questo, devo soltanto fare una critica di in di quinta edizione, una cosa che a me non piace, quello che io rivedrei nella 5.5, più che regolamenti, in sé per sé, questo è lo stupendo manuale di Van Richten, la guida a Ravenloft. Questo ragazzi è un manuale che è una bibbia, per tutti coloro che vogliono ambientarlo, sia su Ravenloft, ma non solo, perché avrebbero potuto chiamarlo la guida di Van Richten all'horror. Questo è un manuale che non parla tanto di Ravenloft. 50 e 50 è anche come ambientare D&D in un'ambientazione totalmente horror, che potrebbe essere anche un collo Tulu, miti di Lovecraft e altre cose, quindi non solo a Ravenloft. Dà tanti sputi per renderlo horror. C'è un problema, che in questo manuale, come in quello dei Forgotten e in tanti altri, D&D in quinta edizione ha frammentato un po' le informazioni. Questo è il manuale di Ravenloft. Io avrei preferito che invece di 200 pagine, 50 euro, fosse un manuale di 500 pagine, anche se me lo facevano pagare 80-100 euro, ma qui ci doveva essere scritto tutto. Invece, se volete approfondire l'ambientazione di Barovia, di cui fa parte, come signore oscuro, il conte Strad von Zarovich, dovete comprare l'avventura Cursof Strad, che è bellissima, ve la consiglio, però, cioè, perché devono dividere le informazioni in tanti manuali? Potevano fare un malloppone grosso così, dove c'era tutto. Come nella vecchia Advanced o terza edizione di D&D, compravi la scatola o il manuale dei Forgotten Realms, ti arrivava un manuale da 400 pagine e dentro c'era tutto. Qui ad esempio non ci sono nemmeno le schede dei personaggi. Quindi è l'unica cosa che vado a criticare a questa quinta edizione, ma ci farò un video a parte, dove parlerò dei pro e dei contro, secondo me, della quinta edizione e quello che hanno fatto vedere in questa live è molto interessante e personalmente a me la 5.5 non interessa particolarmente. Quello che mi interessa di più è vedere l'app, D&D tutto insieme, One D&D e soprattutto vedere cosa tirerà fuori Salvatore, perché la saga di Drizza è talmente bella ed ha 39 romanzi, non ancora tutti tradotti in italiano, ci sta lavorando l'Armenia Editore, che non vedo l'ora di leggere anche insomma la roba nuova perché l'ambientazione dei Forgotten è veramente stupenda, ma spero che qualcuno prenda in mano anche i romanzi o continui a scrivere roba sul Ravenloft perché è veramente spettacolare e per ora in Italia c'è arrivata un po' poca roba. Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate e hanno delle bellissime news per quello che riguarda tutto il 2023 e anche oltre della Wizard of the Coast. Prima di tutto, grazie per aver guardato questo video. Seguimi su tutti quanti i miei social e sul canale Twitch, come ad esempio Facebook, dove metterò tutte le informazioni sul canale, novità, progetti e anche scriverò quando vado in live. Sul canale live Twitch, dove regolarmente, diverse volte a settimana, giocheremo di ruolo, quindi il canale Twitch sarà dedicato al roleplay, ai giochi di ruolo e anche ai giochi da tavolo, ma con prevalenza appunto ai giochi di ruolo e porteremo avanti sia single shot, one shot, che anche vere e proprie campagne. E per ultimo, ma non meno importante, seguimi anche su TikTok, dove caricheremo i momenti salienti delle live, i momenti divertenti, mia moglie stessa carica magari degli spezzoni, di sue giocate, giochi al computer, o anche altre cose che riguardano ad esempio la pittura, le miniature e tutto quanto il mondo dei tabletop che ci ruota intorno, ma non soltanto. Quindi iscrivetevi, è importantissimo anche al nostro canale TikTok. Dunque, cliccate tutti e tre, Twitch, Facebook e TikTok, e iscrivetevi a tutti e tre, soprattutto su Twitch durante le live, potrete usare i punti che guadagnerete semplicemente guardando le live, magari per dare un bonus, un malus ai giocatori, o anche per cambiare a volte il corso dell'avventura. E ricordatevi, importantissimo, mettete la spunta sulla campanella di YouTube, perché almeno vi arriveranno tutte le notifiche e ogni volta che uscirà un video, non ve lo perderete mai. Ciao ragazzi, alla prossima!